A Natale io compro locale. Questo l'invito della BCC di Aquara per sostenere l'economia salernitana. Siamo dalla parte del territorio e per questo ci sentiamo in dovere di sostenere le attività commerciali, artigianali e culturali, spiega Antonio Marino, direttore generale della BCC Aquara, anche per contrastare le multinazionali del commercio su internet che tra l'altro non pagano le tasse in Italia. C'è bisogno che venga valorizzato il tessuto produttivo locale acquisendo una nuova consapevolezza culturale del territorio. Solo così si riuscirà a rafforzare in maniera concreta il rapporto tra produttore e consumatore e a far divenire i nostri centri delle grandi risorse. Già lo scorso anno la stessa banca di credito cooperativo fu protagonista. Con positivi risultati per le attività produttive dell'area salernitana dell'iniziativa Compra in Valle la comunità vivrà. Ora con a Natale io compro locale al via la nuova campagna avvolta a sostenere l'economia locale mediante l'invito a scegliere la qualità dei prodotti agroalimentari e artigianali presenti nei comuni in maniera da stimolare all'acquisto nei vari negozi e botteghe sempre più oscurati dalle grandi catene commerciali e il direttore generale della BCC Aquara proprio per rafforzare il senso di appartenenza alle attività locali che tra l'altro garantiscono occupazione ha chiesto di recarsi presso le filiali per ritirare copia del manifesto. Invitiamo i nostri soci e clienti a sostenere questa campagna promozionale e ad esporre il manifesto dove possibile.